Mr. Celestini, oggi siamo a Vinovo, ospiti di Mr. Baldini, in un amichevole di lusso. È una bellissima esperienza, credo che essendo una squadra molto giovane, è un'esperienza che può servire tantissimo ai nostri ragazzi, proprio per crescere, per far vedere a loro poi l'ambiente professionistico in cui vivono i ragazzi del posto. Sicuramente servirà tantissimo a loro e la porteranno dentro con un bel ricordo, anche se poi l'augurio è quello che un giorno possono anche loro vestire i colori magari di una squadra professionistica, ovviamente. Grazie, Ministro. Grazie a te.